Da lunedì 19 agosto è possibile ritirare tesserini venatori per la stagione 2024-2025 a Cortona. Oltre che l'ufficio del centro storico sono disponibili gli sportelli DEC di Camucia, Terontola e Mercatale. In vista della riapertura della stagione l'amministrazione comunale comunica che i tesserini venatori possono essere ritirati come detto a partire da lunedì. Ad essere interessati da questa procedura sono i circa 900 cacciatori residenti nel territorio comunale. A Cortona centro storico l'ufficio protocollo nel palazzo comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. A Camucia l'ufficio DEC è disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. A Terontola nella nuova sede di via 20 Settembre al Civico 21 l'ufficio è aperto il martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Negli altri giorni i tesserini sono ritirabili a Camucia. Infine a Mercatale l'ufficio è aperto il lunedì ed il mercoledì dalle 9 alle 13.